Il coronavirus è come la pasta, i cinesi l'hanno inventata, ma gli italiani la diffonderanno in tutto il mondo. La pasta a cui si fa riferimento ovviamente sono gli spaghetti, sono i noodle anzi. Questo è un post che è stato pubblicato il 5 marzo del 2020 da Ai Weiwei, un'artista cinese che è protagonista del film che tra poco vedrete. L'immagine è stata commentata tantissimo e se volete divertirvi potete ovviamente andare nell'account di Ai Weiwei e leggere tutti i commenti che sono stati pubblicati. I giornalisti e i giornali sono impazziti alla vista di questo post e parlo sia di riviste di settore, quindi riviste dedicate all'arte contemporanea, ma anche giornali come l'Huffington Post. Nel momento in cui vi ho letto questo post e l'avete visto, com'è che vi siete sentiti? Vi siete sentiti offesi voi? Oppure vi è scappata una risata? O siete d'accordo con Ai Weiwei perché magari dopo tutti gli meme che avete visto contro le persone cinesi, contro i ristoranti cinesi, tra gennaio e febbraio del 2020 pensate che abbia senso una frase del genere. Beh, se avete delle reazioni contraddittorie è normale, anzi è proprio quello che Ai Weiwei vuole ottenere. Infatti durante la visione del film io vi invito a domandarvi molto spesso se Ai Weiwei è una persona che può rispondere a una categoria, ovvero Ai Weiwei come si può classificare? È realmente solo un artista visivo? Oppure è un grafico, è un comunicatore, è un social media manager, è un attivista? Cos'è che ha fatto Ai Weiwei? Ha utilizzato l'arte contemporanea per diffondere il suo messaggio politico in tutto il mondo? Oppure ha portato la politica all'interno del sistema artistico? Ai Weiwei Never Sorry è un film documentario che è stato girato a partire dal 2008 e presentato poi nel 2012. Alison Clayman è la regista del film che all'epoca aveva solo 24 anni, quindi giovanissima. Subito dopo aver ricevuto la laurea in giornalismo dall'Università di Boston decide di prendere un volo e andare in Cina per imparare la lingua. Lì appunto nel 2008, quando iniziano le riprese del film, conosce Ai Weiwei all'interno di una sua mostra. Insieme iniziano a collaborare perché lei subisce una grande fascinazione da parte dell'artista e il 2008, oltre a essere l'anno in cui si sono conosciuti, è anche l'anno in cui è avvenuto un terribile terremoto nella provincia di Sichuan, causando migliaia di morti. Il numero dei morti è sempre rimasto segreto, per volere del Partito Comunista, che ancora attualmente regna in Cina. E Ai Weiwei ha deciso di iniziare a fare un lavoro di ricerca insieme ad altri collaboratori, inventari, persone che già stavano seguendo il caso, per arrivare a un numero di vittime e a dare anche un nome a quelle vittime, tra cui molti erano bambini perché molte scuole sono crollate, molti edifici in generale sono crollate, molte case sono crollate. Per un'architettura è un'edilizia che Ai Weiwei definisce come di tofu, tanto erano precarie. Successivamente vediamo nel film l'apertura del suo blog, racconta dell'apertura del suo blog, in cui Ai Weiwei inizia a denunciare molti atti e molte scelte del Partito Comunista. Il sito verrà censurato e a quel punto Ai Weiwei si sposterà su Twitter. Nonostante noi vediamo Ai Weiwei all'opera in studio con una serie anche di collaboratori, uno dei quali si atto definisce il sicario di Ai Weiwei, all'opera per realizzare dei progetti per la Tate Modern di Londra, per la Biennale di San Paolo, Ai Weiwei definisce la sua opera migliore il progetto su Twitter, perché grazie a quello ha raggiunto un pubblico vastissimo, grazie a quello è stato anche tutelato da quelli che potevano essere le reazioni del Partito Comunista nei suoi confronti. E quindi torniamo alla domanda iniziale. Ai Weiwei, una persona che definisce il suo miglior progetto o l'apertura di un account Twitter, può essere definito un artista visivo? Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona visione.